Andiamo in studio, sempre Traccio, sempre Cicci Zanini, adesso abbiamo Maurizio Radacis, l'amico Maurizio Radacis, con il suo ultimo libro, edito dal club alpinistico triestino, appunto un libro fatto assieme a Claudio Rebez, i rastrellatori, prima dicevamo, parlavamo appunto di questa carica di cavalleria a Polo, un episodio dimenticato, ma anche i rastrellatori e questi episodi tragici che li hanno purtroppo circondati, sono stati dimenticati. Buon pomeriggio, qui ripercorriamo una storia che non è conosciuta da molti, perché oltretutto si parla di rastrellatori civili, cosa contrariamente a quello che avveniva nell'estria d'Italia, Trieste ha la sua storia, non dimentichiamoci, che poi magari racconteremo, che qui i rastrellatori non civili pertanto non soggetti a quello che era la tutela dei militari. E questo libro ripercorre un periodo storico che va dal 1945 fino agli anni 70-80, quando questi ultimi rastrellatori, inquadrati ormai nell'esercizio italiano, come operai civili, andavano praticamente a esaurimento, ovvero quando andavano in pensione nessuno veniva sostituito. Ma abbiamo anche il percorso... Quindi è un bel periodo storico, vuol dire che un'emergenza continua? E anche perché spiegheremo adesso che, contrariamente a quanto avveniva nel resto d'Italia, i rastrellatori che c'erano dappertutto in Italia, erano degli impiegati sia militari che civili che venivano chiamati praticamente nel momento in cui si riveniva una bomba, un qualcosa, delle armi, eccetera. Mentre qui a Trieste, questo gruppo rastrellatori bombe e mine, che era autonomo, fra virgolette, aveva fatto una specie, diciamo, di programma per sminare tutto il territorio. Perché Trieste, la provincia di Trieste, non lo dico io, ma lo dicono gli storici, era praticamente la zona più minata d'Europa. Cioè, prendiamoci in considerazione questo. Anche perché dovevamo ritornare un attimino indietro e arrivare alla Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel periodo del 1943. Ottobre 1943 viene istituito l'OZAC, l'operazione zona elettorale adriatico. I tedeschi occupano il territorio politicamente e militarmente e praticamente hanno la paura di quello che era uno sbarco anglo-americano qui in zona. Era stato prospettato, attenzione, Cerci ha detto, sbarchiamo a Trieste, Ljubljana, Viena, Berlino. Sì. Ventre moglie dell'Europa praticamente. Certo, perché tanti non sono molto convinti di questo. Invece sì. Invece questo problema c'era. C'era anche perché c'era la base assistiana qui in Molko e dovevano aspettare proprio la flotta, no? Perfetto. Per questo motivo i tedeschi sapevano di questo famoso progetto. Gli americani dicono, sì, possiamo sbarcar a Trieste, ma attenzione, mare Adriatico, 2000 km, mare stretto, siamo nell'Italia, ci saranno problemi grossissimi. Poi qualcuno ha detto che anche il maestro Tito ha detto, no signori, se voi sbarcate a Trieste, che Trieste sarà Jugoslava, io mi arrivo con i tedeschi per cacciare il mare. Per questo motivo questo famoso sbarco non è stato fatto, fortunatamente. Però la paura è rimasta. Per questo motivo i tedeschi cominciano a fortificare tutta la zona da Rieca a Fiume fino a Grado. Realizzano tantissimi bunker, trincè, famosa operazione zona, praticamente viene realizzata. Ci sono ancora. Tutta una serie, diciamo, di campi di lavoro chiamati lager, a Rukavizza, a Gelovizza, fino a partire a Grado. E la paura è rimasta. Per questo motivo abbiamo anche assistito alla base di questi Molko, che erano dei mini sommergibili che non erano d'offesa, ma bensì erano di difesa. Dovevano eventualmente attaccare... Poca autonomia, poca profondità. Una persona sola che la guidava, c'è anche un piccolo Vando Klaustrofobnikov, per dire. Però doveva constatare, eventualmente contrastare questo avvento di sbarco alleato. Perciò la zona era completamente minata. Però per parlare di rastellatore di bombe e mine, bisogna fare ancora un piccolo passo indietro. Dovevo parlare proprio della Seconda Guerra Mondiale, perché ci sono dei precursori, l'UMPA, l'Unione Nazionale di protezione antiarea. Praticamente cosa succede? Bombardamenti anglo-americani, anche se qui la zona di Trieste è stata relativamente tranquilla, fino al 1944 ci sono stati i bombardamenti, comunque l'UMPA, in tutta Italia ha operato, era la detta a raccogliere le bombe in esplosive che gli anglo-americani buttavano. E non erano poche, perché continuiamo a trovarle. Ma certo che sì. Ogni tanto viene fuori che qualcuno rivela in una bomba di aereo, o in mare, o da qualche altra parte. E per questo motivo l'UMPA inizia questo tipo di rastriamento. Inizialmente l'UMPA, nata nel 1934, era un ente privato, poi è stata militarizzata e via di seguito. Non aveva grande seguito, è proprio qui a Trieste. Non è che tanti entravano nell'UMPA, perché era più su base volontaria, non c'era questa idea ancora di questo problema. Per tale motivo l'UMPA era così, vivacchiava, a Trieste. Mentre dopo l'8 settembre del 1943, quando abbiamo l'armistizio, tutti a casa, la guerra è finita, e anche i triestini sono scappati a casa. E ben 4.000 giuliani entrono a far parte delle varie situazioni, tipo l'organizzazione Tod, l'UMPA, eccetera. Cercavano di non combattere più e si adattavano a questi tipi di lavoro, o nei vigili del fuoco, o nell'UMPA, eccetera. E per tale motivo l'UMPA comincia ad avere un certo numero di persone che continuano a sminare quello che è il territorio. Ma veniamo, Maurizio, subito al dopo guerra. Ma perché cosa succede? Succede che 1 maggio 1945, c'è l'amministrazione di Yugoslavia del territorio fino al 12 giugno, l'UMPA viene sciolta, essendo un'istituzione fascista, viene sciolta da autorità. Però c'è un gruppo di persone che continuano a lavorare, c'è un certo Klatowski, con alcuni componenti, che decidono di continuare quest'opera di sminamento. E agli Yugoslavi va anche bene, perché stavano sminando tutto il porto, il porto era minato, tutta una serie di cose, e per tale motivo dicono beh, d'accordo, continuate il vostro lavoro. Poi il 12 giugno abbiamo l'occupazione anglo-americana, fino al febbraio del 1947, e gli anglo-americani dicono sì, d'accordo, questo gruppo di rasteratori può continuare il lavoro, perché forse è meglio che muoiano loro che non dei nostri. E' stato il fatto che passano sotto il comando inglese, perché anche lo sminamento quello che erano le mine marine, era compito della marina inglese. Tra il fatto che abbiamo avuto tantissimi incidenti, anche nel libro riportato alcuni di questi incidenti, sia sulle navi Liberty che portavano lì fuori in media a Trieste, sia anche navi militari, eccetera. Per tale motivo viene anche realizzato un gruppo autonomo, che sarà di palombari e sommostratori, che opereranno soprattutto nella zona delle dighe, per recuperare tutte le famose bombe che i tedeschi hanno lasciato, perché non dimentichiamoci che i tedeschi avevano minato tutto quanto il porto, con delle belle bombe di Stukas, perciò nelle fotografie si vedono queste bombe di Stukas e uno dice ma le hanno lanciate? No, assolutamente. Le hanno posizionate in vari punti, sulla diga, sul porto, eccetera, perché in caso di resa dei tedeschi, Trieste deve saltare in aria, un po' come Parigi Brucia, la famosa Parigi Brucia, così anche i tedeschi vogliono far piazza pulita di quello che era Trieste. Per questo motivo queste persone continuano il lavoro e gli inglesi dicono d'accordo, facciamo questo gruppo rastrellatori bombe e mine civili, diamo anche inizialmente una paga molto consistente, se di fatto prendevano tre volte tanto quello che prendeva un minatore inglese, è stato di fatto che iniziano questo lavoro. E nell'arco di tutto questo periodo, dal luglio 1945, quando c'è l'inizio di questo gruppo rastrellatori bombe e mine fino agli anni 80, che sono gli ultimi andati in pensione, in questo gruppo hanno fatto parte 359 sminatori. Ecco, con quanti incidenti erano morti? Sì, ma di cui anche 70 che erano di Polia, perché ci si dimentica spesso che per due anni Polia era un'enclave italiana, dal 1945 al 1947. E lì c'era anche questo gruppo rastrellatori bombe e mine, come c'era uno a grado, una sezione, c'era anche una sezione di Polia. E c'era circa una settantina, che poi nel 1947, quando Polia è stata seduta alla Jugoslavia, sono tutti quanti immigrati via, che è sfogliato da varie parti d'Italia. Praticamente inizia questo rastrellamento e, contrariamente, quando dicevo prima, questo gruppo rastrellatori bombe e mine, si fa un programma di rastrellare tutto il territorio. E iniziano zona per zona. Non dimentichiamoci che Miramare era una zona particolare, perché gli americani e gli inglesi volevano realizzare delle cose particolari, e iniziano a rastrellare la zona di Miramare, che era una zona minatissima. E lì abbiamo anche il primo incidente. C'è un certo fra i Zoli, un veronese, viene assunto il primo luglio del 1945, il giorno 4 inizia lo sminamento, per cause imprecisate, non sapremo mai, esplode una mina, muore il giorno 9. Questo qui ha lavorato a povero quattro giorni ed è morto. E' il primo che abbiamo avuto il più grosso incidente. Prima purtroppo di una lunga serie, c'è proprio... Ecco che bombe c'erano, cioè parlavamo prima di mine subacquee, ma anche ovviamente proietti, poi mine... cioè quelle bombe lanciate dall'aereo, ce n'erano tantissime... Ecco ma soprattutto erano i campi minati... I campi minati... I tedeschi avevano minato tutta la zona, dal Lazzaretto fino a Sistiana... Ecco come procedevano? Ma loro intanto... Avevano cerca metalli, sì... Cioè attenzione, questo è il problema, queste persone erano un po' malate allo sbando, non avevano una divisa, non avevano niente, nemmeno mezzi propri. L'unica cosa che avevano dei motocarri famosi dell'Umpa, che poi li hanno utilizzati loro e alla fine, le turbine a Trieste utilizzavano questi motocarri, ma come sistema non avevano nient'altro. Avevano vestiti da civili, addirittura la fascia identificativa, quella fascia da braccio che di solito tutti quanti hanno tipo dell'Umpa, è differente, se la facevano in casa. Le mogli ricamavano queste famose fasce per poter essere riconoscibili. Quindi prima parlavi degli autocarri, uno di questi appunto è saltato a Monfecone, ricordiamo un episodio che ha avuto tantissimi morti. Sì, sono stati 16 morti più l'autista 17. E noi avevamo una versione di questo incidente, la lizard. E mentre durante la mostra, fortunatamente come si suol dire, c'è sempre chi partecipa, perché ho un parente, un conoscente, un amico, e siamo riusciti finalmente a capire cosa è successo esattamente in quell'arco del tempo. Comunque il numero 17, che tutti quanti dicono che non è un numero che porta fortuna, ripercorre sempre nelle nostre storie in questo caso, perché si diceva 16 rastrellatori più l'autista del camion. Ma inizialmente alle 8 di mattina del 28 settembre del 45, c'è questo camion che è pieno di mine, di bombe eccetera, che deve essere portato all'ISER, praticamente nella zona di Timau, poi scaricavano in mare queste bombe, stanno per partire e sono 17 rastrellatori. Uno diceva, un 17 non è un numero che proprio... Io resto a casa. E vogliono salire sul camion, il camion non parte. Non funziona. Telefono il comando inglese, che era quello che forniva il camion, mandano questo ragazzo, Armandur, un ragazzo di 18 anni, mandano quel suo camion, caricano praticamente queste bombe e vanno all'ISER e poi esploderà. Esploderà in una maniera che non si è mai capito. Insomma, d'altronde, poi portando così centinaia e centinaia di bombe, è inevitabile che... Un'altra versione dice invece che erano i 17, ma uno si è sentito male ed è sceso a Barcola, e già due ce l'hanno confermato, di modo che erano 16 rastrellatori, più il diciassettesimo e l'autista del camion. Quindi alla fine non cambia... In totale sono morti 29 di questi. E tanti sono seppolti a Sant'Anna? Tutti seppolti a Sant'Anna e il Campo 1, c'è questo monumento fatto dal comune, che noi abbiamo omaggiato con una corona di ricordo, e che praticamente è andato a comune. Ecco, abbiamo pochissimo tempo ancora, Maurizio Ralla, c'è un ultimissimo episodio in pochissimo tempo. C'è episodi, ci sono tanti, perché hai detto prima che sono attivati fino agli anni 80, se si continua a trovare esplosivo ancora. Sì, sì, ancora oggi sì, ma ecco, una cosa che contrariamente a quanto avevano gli altri rastrellatori nell'estria d'Italia, non avevano nessun tipo di assicurazione. E' stato fatto che un giorno all'isola Morosini c'erano questi rastrellatori che stavano recuperando questo campo minato, quando vengono a sapere che non c'è l'assicurazione. Allora il capo dice, fermiamoci, ce n'è uno, un certo cipollone, Antonio, che dice, praticamente ha ancora una bomba, la prende, esplode e rimane cieco. Sì, questo, alcuni parlano di destino, io non ci credo comunque. Abbiamo concluso questa puntata, appunto, su di chiamarla, quella dei dimenticati appunto, perché tanti episodi non se ne sappiamo, non si sapevano neanche le persone che l'hanno vissuto. Ringrazio Maggiore Alipi Mugnaioni con cui abbiamo parlato della vera ultima carica della cavalleria italiana in Croacia e Maurizio Raracici che ci ha raccontato dei rastrellatori, queste persone eroiche dimenticate che hanno appunto bonificato buona parte del territorio. Bene, saluto Assunta e ringrazio Assunta Canata e Maurizio Mona che ci hanno assistito.